Un cordiale buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Viagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano 4 km di coda tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze, coda in uscita anche a Firenze Sud provenendo da Bologna a causa del traffico intenso. Passiamo alla 11 dove si registrano code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 sempre a causa del traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci sempre in direzione Firenze, code a tratti anche tra Firenze Scandicci e la Strassigna in direzione Livorno, città di Firenze da oggi è in programma l'inversione di marcia in via delle 5 giornate da via Crispi a via dello Statuto in relazione all'entrata in vigore della linea T1 Leonardo della tramvia. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!